Stefano Storti personal trainer al festival delle conoscenze a Novi Ligure per incontrare i giovani e per raccontare la sua storia professionale e qui leggiamo ora basta muoviti si è un po una filosofia che mi accompagna da quando ho iniziato a fare questo percorso cercare di trasferire alle persone questa ispirazione a muoversi perché movimento è salute e soprattutto benessere il piacere di confrontarsi con i ragazzi tu oggi hai giocato con loro in realtà insegnando loro la tua passione sì io come ho detto non mi ritengo un insegnante un professore forse più un educatore e per educare i ragazzi e le persone bisogna essere noi stessi sostanzialmente e la parte del gioco è una parte importante poi anche far star bene le persone il filo conduttore di questa chiacchierata in mezzo agli studenti era questo sì ritengo che sia un come dire una parte fondamentale di me come persona ma sicuramente di noi in assoluto cioè cercare di creare un rapporto positivo un rapporto empatico dove in quel contesto le barriere si abbassano le persone parlano liberamente di sé la tua parola preferita patos e poi ci sono i ragazzi